ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo breve video dunque oggi che non so che giorno è alexa che giorno siamo oggi ecco oggi praticamente mentre vi sto parlando sto editando il video sulla bill del ladro e praticamente appena loggato ovviamente qua nella schermata principale c'era questa bella lucina qua che si illuminava e sono andato a vedere sono andato a vedere e c'era questo pacchetto scelta emblema leggendario ecco per cui sto registrando questo breve video e pubblicarlo direttamente dalla piattaforma di playstation quindi niente ecco questo è un piccolo breve video per ricordarvi di scattare questo pacchetto se non l'avete già fatto non so se è uscito ieri o oggi comunque non ve lo dimenticate niente rimanete in girata perché a breve appunto appena se non crasha il software dell'editing non appena sarà pronto il video lo caricherò e poi lo pubblicherò su youtube ok niente detto questo vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale le solite cazzate e ci sentiamo al prossimo video ciao ciao